Il DNA delle vendite nasce dalla consapevolezza che la relazione col cliente è l'elemento più importante di ogni negoziazione. Sappiamo che miglioriamo noi stessi, le nostre relazioni e la nostra vita una decisione alla volta ed è da qui che nasce il modello di vendita relazionale, efficace ed etico basato proprio sui tre elementi fondamentali che sono la decisione, la negoziazione e il raggiungimento dell'accordo. Su cosa si basa il DNA delle vendite? Sicuramente su una filosofia innovativa che è la neuropsicologia positiva applicata, quindi come funziona il nostro cervello, come funzioniamo noi quando prendiamo le decisioni e ha una solida base scientifica da tutte le ricerche della psicologia positiva che si applica proprio all'aumento delle performance sia di vendita che personali e anche relazionali ovviamente. Poi in cosa si concretizza realmente? Nell'applicazione alla vita quotidiana, alla competizione che tutti noi dobbiamo ogni giorno affrontare e superare quindi con la creazione di una relazione positiva con il cliente. Quindi il DNA delle vendite in che cosa si concretizza poi con l'esperienza intensiva di settembre? Sicuramente con lo studio delle strategie più adatte al proprio campo, quindi alla propria professionalità, l'applicazione delle tattiche più adeguate al momento e al contesto che si sta vivendo e poi la prova pratica, quindi la prova pratica sui kart per avere una competizione reale che ci mette in relazione con tutti gli altri partecipanti.